Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, appena finita il Barcellona Liverpool, seconda semifinale di andata di Champions League, vince il Barcellona 3 a 0. Prima di commentare la partita, volevo fare i miei migliori auguri di pronta, affinché si ristabilisca presto, un grandissimo campione che oggi ha avuto una disavventura mica da ridere, un infarto ragazzi, è sempre una brutta cosa. Forza Iker, forza Iker Casillas, non dico che ti voglio in campo, pensa alla tua vita, hai fatto una grandissima carriera, sei stato un grandissimo campione, hai vinto tutto quello che potevi vincere, io dico che basta così, pensa alla tua vita, pensa alla tua famiglia, magari te lo dico anche in spagnolo, un po' di spagnolo lo so. Perciò, querido Iker Casillas, vamos a ganare questo altro partito, il più importante partito di tua vita, non non hai che giocare con il corazone, ti hai che pensare a tua famiglia, tuarle, tua tua famiglia, tu le donne, i tuoi ragazzi, tuoi difetti che sei un campione più grande, hai vinto tutto quello che ti ha avuto, tutto quello che ti ha avuto, io penso che Mucha suerte Iker Somos contigo Tambien da Italia Ciao Allora, torniamo a parlare in italiano Barcellona-Liverpool Finisce 3-0 Avevo pronosticato 2-0 ieri Avevo pronosticato una finale Barcellona-Tottenham Barcellona al 90% C'è Perché Un 4-0 per il Liverpool Fra una settimana Lo reputo pura fantascienza Sinceramente Con questo però voglio dire Oramai questo 3-0 sotterra quasi del tutto Le ambizioni per quest'anno Del Liverpool e del Calcio Inglisi In generale Perché non credo che Il Tottenham se dovesse passare Faccia meglio Comunque Il risultato che però Fino a un quarto d'ora dalla fine È totalmente bugiardo Se consideriamo la partita Che abbiamo visto fino a un quarto d'ora dalla fine Il Liverpool ha giocato Molto bene Molto bene È mancato di concretezza E qui si sono visti davvero i limiti I limiti Dell'attacco del Liverpool Che Salah È tornato praticamente Quello di Roma Salah grandissimo Col Brighton Col Porto Con Ladersfield Con Con l'Everton Con Wolverhampton Con queste squadre qua Ma Appena La faccenda si complica un po' Salah La porta La vede poco Come la vedeva poco a Roma Gran giocatore Per l'amor del cielo Ma da qui Ad avvicinare Che so L'inavvicinabile Messi di stasera Amici miei Ce ne passa Ma ce ne passa Tanta 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 Di acqua sotto i ponti Questo qua Non ha fatto Una gran partita Messi Segnato il gol 2 a 0 Un gol molto fortunoso Quel gol è tutto Di Suarez Ex Avvelenatissimo Quando pare Ma poi Ragazzi Ha tirato questa punizione Che Cosa vuoi prendere Ragazzi miei Mi sa che questi Ci situano Il terzo triplete Della loro storia Sarebbe un qualcosa Veramente di fantastico Certo è che Stanno meritando Amici miei Non ci resta A questo punto Che sperare Nell'ennesimo Miracolo Dell'Ajax Perché Perché Almeno Vedremo una squadra Che se la gioca Che potrebbe Creare difficoltà Ma Sulla qualificazione Dell'Ajax Lo dissi ieri Nonostante la vittoria In trasferta Ho ancora Molte riserve Sinceramente Io ho pronosticato La finale Barcellona Tottenham Per un motivo Ben preciso Barcellona Tottenham Con il Tottenham Che ne prende 3 o 4 Quindi Con non c'ha Lanza Finale anche a Madrid Ci saranno 50.000 Catavani Nello stadio Dell'Atletico Ci saranno Almeno 50.000 Catavani Il Barcellona La gioca Praticamente In casa Quindi Anche se Anche se Delle due Finali Che ha perso Di Champions Che ha perso Una delle due L'ha persa A pochi chilometri Da Barcellona A Seviglia Con la In quella Incredibile finale Con la Staua Bucarest Quando il calcio Spagnolo Era Mas Furioso E In Madrido In Barcellona Fracaso Total La Vuelta In Italia In Inglaterra O in Alemania Perché era questo Il calcio Spagnolo Ragazzi Era questo Fino agli anni Ottanta E' stato questo Il calcio Spagnolo Adesso Ragazzi Miei Si avvicina All'ennesima Finale Finale Che affronterà Da grande Favorito E qua Aumentano I cazzi O dei rimpianti Per quella Per quei 20.000 Infortuni Della Juventus E quella condizione Fisica pietosa Con la quale Abbiamo affrontato Gli olandesi Madro Che dito nel culo Che sta facendo Ragazzi Comunque Secondo Le mie previsioni Dovrebbe essere L'ultimo anno Di dominio spagnolo In Champions Anche perché Non ce lo vedo Il Barcellona A vincere due anni Di fila Comincia a invecchiare Anche loro Messi e Suarez Sono classe 87 Vidal anche Rakitic E vecchiotto Anche lui Mi sa che è classe 88 89 Non ricordo Quindi E sulla Trentina Anche lui Pichè Altrettanto Insomma Ragazzi Credo proprio Che questo sia L'ultimo anno Di dominio spagnolo In Champions Ci aspetta veramente Un lungo dominio inglese Dalle prossime stagioni Secondo me Quest'anno Forse non sono ancora pronte Le inglesi Io dico che In Champions Sono mancate Le due squadre Inglesi Che si sono dimostrate Più concrete In questi ultimi anni Nelle coppe Che vale a dire Il Chelsea Il Manchester United Chelsea per varie vicissitudini Conte Murigno Che si sono lasciati male Sarri che non sta facendo benissimo Che in pratica Se non vince l'Europa League Fa le valigie anche lui E il Manchester United Che è il reduce Da campagne acquisti Totalmente sballate Da quando ha abbandonato La politica Delle giovanili Che tanto bene ha portato Alla storia del Manchester United Questa è una squadra Che non riesce a mettere su Una rosa competitiva E niente Il ritorno fra una settimana Fra Liverpool e Barcellona Potrebbe vincerlo il Liverpool Ma io ci vedo Un 2 a 1 Massimo 3 a 1 Ma non penso Che la qualificazione Sia minimamente Messa in discussione Troppo più esperto E concreto Il Barcellona Del Liverpool Che ripeto Fino al settantesimo Fino a un quarto d'ora Dalla fine Ha giocato meglio Il Liverpool Differenza Il Barcellona Sa tirare in porta Il Liverpool No Questa è stata la differenza Troppo di cinismo Di cattiveria E questo è quanto Ragazzi Dicami cosa ne pensate Spero Di raggiungere Quota 70 80 iscrizioni Entro questa settimana Che una volta Superata la soglia psicologica Delle 100 iscrizioni Al canale Ve leggiamo Tranquillamente E con Nonchalance Verso le 1000 Ciao ragazzi Buonanotte Di nuovo in bocca al lupo Iker Mi raccomando Buonanotte